Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale e tv siti in apertura alla cronaca col video divenuto virale sui social e ripreso a terzigno in cui un carabiniere prende a calci un giovane che stava violando il coprifuoco maxi operazioni invece la guardia di finanza di torre annunziata nei confronti di un commercialista e di sua moglie colpevoli di aver omesso la dichiarazione nei redditi per due anni passiamo ora all'emergenza sanitaria con i dati dei comuni del vesuviano tre morti registrati ieri a torre del greco e lunga intervista all'assessore ottaviano e alla consigliera comunale carmela pomposo per tutte le iniziative che riguardano il nostro mare soprattutto in vista dell'imminente stagione estiva in conclusione l'incontro questa mattina negli uffici in la stecca fra incisori di cammei torresi e amministrazione comunale per delineare una distinzione fra la categoria degli artigiani del cammeo da quella dei lavoratori del corallo questo ed altro nei nostri servizi simona un ragazzo preso a calci dai carabinieri perché sorpreso a passeggiare nell'orario del coprifuoco è questo quello che appare in un video divenuto virale sui social e che ha fatto scattare un'indagine interna dei militari del comando provinciale di napoli il fatto è avvenuto a terzigno nella tarda serata di ieri nelle immagini anche insulti al ragazzo da un militare sceso dalla vettura il comando ha immediatamente avviato autonomi accertamenti finalizzati a perseguire con il massimo rigore e convinta inflessibilità comportamenti inconciliabili con i valori fondati dell'arma si apprende tra il 10 e l'11 maggio 2021 i militari del gruppo della guardia di finanza di torre annunziata hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per una somma di denaro pari a circa 225 mila euro nei confronti di un commercialista esercente la propria attività nel comune di piano di sorrento e della sua consorte per il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per due anni di imposta consecutivi 2016-2017 il provvedimento cautelare reale è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari di torre annunziata sul conforme richiesta della procura della repubblica di torre annunziata a seguito degli ulteriori accertamenti esperiti dalla tenenza della guardia di finanza di massa lubrense nell'ambito di un'attività di indagine svolta dal predetto reparto che trae origine dall'estito di una verifica fiscale conclusa dalla stessa tenenza nell'anno 2020 in particolare nel corso della suddetta attività di verifica a seguito dell'esame delle scritture contabili acquisite presso lo studio professionale dell'indagato e dell'analisi delle indagini finanziarie eseguite sui conti correnti riconducibili a professionisti alla moglie dello stesso per gli anni di imposta 2016-2017 per i quali la dichiarazione dei redditi risultava omessa emergevano talunne anomalie relative ad operazioni di versamento sui conti correnti indirettamente riconducibili all'indagato ed intestati alla consorte la quale prestava attività di collaborazione nello studio professionale del marito. Tali anomalie sui versamenti giustificati dal commercialista in serie di verifica mediante asserzioni inverosimili e non riscontrabili considerate quali compensi per l'attività lavorativa del professionista venivano posti a base della constatazione mossa dai finanzieri sul piano fiscale nonché quale base imponibile per il calcolo dell'imposta evasa. Il superamento delle soglie previste dalla normativa penale tributaria per gli anni di imposta 2016-2017 determinava la segnalazione delle condotte poste in essere dall'indagato alla procura della Repubblica di Torre Annunziata e la conseguente adozione del decreto di sequestro preventivo dell'imposta evasa. Non essendo state rinvenute somme di denaro sufficienti sui conti correnti intestati all'indagato e alla moglie è stato sottoposto a sequestro l'immobile di proprietà di quest'ultima. Registrati tre decessi a Torre del Greco, avevano più di 70 anni. Un dato spiacevole quello di oggi che ci fa riflettere su quanto il virus sia ancora purtroppo letale. Il comune Corallino registra anche quattro nuovi casi di contagio, attualmente in isolamento domiciliare. Sono invece 25 le persone guarite, una cifra molto importante soprattutto se rapportata al boom di guarigioni degli ultimi giorni. Tuttavia altri 118 tamponi sono stati effettuati ed i risultati arriveranno nei prossimi giorni. Continua così a mutare il bilancio dei contagiati con 270 attualmente positivi, di cui 15 ospedalizzati. Torre Annunziata invece registra una sola guarigione con 5 nuovi casi positivi su 88 tamponi effettuati. Aumenta dunque il numero di positivi attuali che arriva ad 80. Un dato che speriamo si abbassi nei prossimi giorni. Ai nostri microfoni l'assessore Annarito Ottaviano e la consigliera comunale Carmela Pomposo. Il tema è la tutela del nostro mare, specialmente in vista dell'imminente stagione estiva. Lavori di riqualificazione e di abbellimento del porto di Torre del Greco, come stanno procedendo? Sono iniziati dei primi lavori, adesso in questa settimana e per i mesi di maggio continueranno e altro. In tale occasione, visto che l'11 aprile c'è stata la festa del mare e quindi non abbiamo potuto festeggiare, così come è stato organizzato dalle varie associazioni in collaborazione con il Comune e con la Capitanina di Porto, ci saranno ulteriori giornate organizzate e dedicate al mare. Per quanto riguarda invece la pulizia e il controllo dei nostri fondali, cosa si sta facendo, cosa di attivo soprattutto per salvare i nostri fondali? C'è un tavolo tecnico tra Capitanina di Porto, il Comune di Torre del Greco e l'associazione che ci hanno attenzionato su tale problematica, dove siamo stati subito pronti ad accogliere tale sollecitazione. In occasione dell'ulteriore giornata dedicata al mare ci saranno da parte delle associazioni e in collaborazione sempre con la Capitanina di Porto sia la pulizia dei fondali che la pulizia degli specchi d'acqua. E poi ci sarà un ulteriore cronoprogramma dedicato al mare, quindi all'attività anche di monitoraggio del mare, di monitoraggio delle acque. Si sta lavorando soprattutto in vista di una possibile riapertura della stagione estiva, ovviamente. Qual è il ruolo del Comune in tutto questo, soprattutto per la vigilanza? Il ruolo del Comune deve essere sentinella da questo punto di vista, perché quest'anno diciamo che è particolare come l'anno scorso, fra poco si darà il via libera, ovviamente aspetteremo sempre le disposizioni da parte del Governo, quindi anche se ci sarà il via libera per l'attività balneare, però nel rispetto delle norme che ci vengono imposte dall'alto. Quindi in sostanza la giornata dell'11 aprile, la giornata del mare, possiamo considerarla come una promessa per il nostro mare? Sì, diciamo che è stata una promessa, è stato un modo per dire che l'amministrazione c'è, è presente, quello che noi possiamo fare per tutelare il nostro mare, siamo presenti insieme alla stessa associazione, quindi è soltanto l'inizio di un'attività che sarà poi effettuata e monitorata in tutta la stagione estiva. La tutela del mare, dei fondali e di quant'altro è un argomento trasversale che richiede l'interessamento dei vari settori, di vari enti, di varie attività economiche. Come si sta procedendo per coordinare tutto questo? Sì, si sta procedendo bene, stiamo lavorando in sinergia sia col sesto settore, quindi con la dirigente Gradesacco e il funzionario Francesco Liguoro, ci stiamo coordinando con le associazioni del territorio, preferiamo appunto quelle del territorio perché c'è il nostro sangue, quindi siamo sicuri di un risultato, un riscontro positivo, con tantissime novità in via sperimentale che siamo partiti già con i sebin dell'11 aprile, che era la giornata dedicata al mare e abbiamo avuto un riscontro positivo. Ed anche quelle erano in via sperimentale e sono riuscite bene. Ora invece per le altre giornate, altre domeniche, probabilmente fra un paio di domeniche, dedicheremo ancora un'ulteriore giornata. Quindi quali sono le novità tecniche che potremmo vedere nel nostro mare? Il nostro interesse è quello del mare pulito, quindi allora avremo i sub che puliranno i fondali. Poi si sta sperimentando, grazie ad un'associazione che ha lanciato questa novità, di una sorta di comuni che verranno messi sull'acqua per non far filtrare la schiuma o sporcizia che sta sulla superficie dell'acqua, quindi da permettere ai bagnanti di potersi immergere in un mare sperando pulito. E poi una sorta di rubo d'acqua che ci permetteranno sempre la pulizia dello specchio d'acqua. Ovviamente tutto questo lo possiamo avere in via sperimentale, che lo faremo una di queste domeniche, per vedere se il risultato dovesse essere positivo, poi sarà proposto sicuramente. Ma noi siamo fiduciosi. Un incontro, se vogliamo dire storico, per il Comune di Torre del Greco oggi alla Stecca. L'argomento è quello di distinguere la categoria degli incisori da quello dei lavoratori del corallo. Perché è importante questa distinzione? La cosa fondamentale è dare agli incisori la loro categoria per aprire la loro attività commerciale C1. Questa è una cosa proprio di base. Invece oggi, diciamo, gli incisori, fra virgolette, che è poi una delle figure più belle che abbiamo sul nostro territorio, Torre del Greco, come poi viene sempre pubblicizzato nel mondo, Torre del Greco, Cameo e Coralli, erano costretti, fra virgolette, per una problematica anche di codice ad eco in Camera di Commercio, che loro erano costretti ad andare con C3. Invece, con l'incontro che ho fatto presso il swap con il dirigente in compagnia, in presenza dell'assessore Annarito Ottaviano, abbiamo definito bene questa circostanza. Adesso noi abbiamo parlato anche con il settore dell'urbanistica, con l'assessore Gennaro Polichetti e con le altre maestranze all'interno del settore dell'urbanistica, per portare a conoscenza che quindi gli incisori possono da oggi iniziare a determinare dei loro punti e creare pure una strada di incisori, ma con una caratteristica C1. Sono molto fiero, lieto, e ho qua una rappresentanza di quello che sono gli incisori di Torre del Greco e finalmente, facendo questo connubio fra swap e urbanistica, dopo almeno 70-80 anni, riusciamo veramente a definire e spezzare questa maglia a favore di questa illustre categoria di incisori che sono, come si dice, l'emblema anche di Torre del Greco. A livello pratico, cosa comporta distinguere la categoria degli incisori da quella dei lavoratori del corallo? Quale utilità rega le maestranze? Sono due lavori vicini, però così differenti. Noi, incisori del cammeo, utilizziamo una semplice conchiglia naturale che non produce residui nocivi, a differenza magari del settore orafo che va più nell'industriale perché si usano degli acidi, dei macchinari, cose che producono inquinamento. Quindi, ipoteticamente, noi potremmo lavorare anche qui adesso. Abbiamo bisogno di un banchetto e non abbiamo bisogno di altri macchinari, quindi un semplice negozio per noi può essere sufficiente. Quindi dei vantaggi anche a livello commerciale e fiscale? Se noi parliamo del territorio di Torre del Greco, non ci sono locali C3, mentre c'è abbondanza di negozi. Noi, non usando, come dicevo prima, materiali tossici oppure sostanze nocive, potremmo rientrare tranquillamente ed avere più scelta anche negli immobili o da acquistare o da locale. Noi siamo contenti, in primis, appunto del supporto che stiamo avendo della coraggiosa amministrazione di questo periodo perché finalmente si va a scendere quella che è la lavorazione del corallo dalla lavorazione dell'incisione del cammeo. Se riuscissimo veramente ad ottenere la possibilità di operare in un locale C1 anziché C3 con tutti i vincoli che ci sono, potremmo veramente riuscire a creare qualcosa di inedito a Torre del Greco, anche perché abbiamo gli esempi come Vietri, città delle ceramiche, a Napoli ci sono tante strade dedicate agli artigiani locali e a Torre del Greco non c'è mai stata una realtà del genere. Quindi fare qualcosa di speciale in una città che nasce con la prerogativa di avere un fiori, corallo e cammei sarebbe veramente un sogno per tutti noi. Grazie per la cortesa attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione-tvcity.it o al numero di telefono 340-6561-484 E con questo è veramente tutto, io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi. Grazie per la visione!